Ciao, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 14 del Livro Shea che valido fino al 15 novembre del 2017. Tra le tante novità che vedremo subito, ce n'è una che è in edizione limitata, il calendario dell'avvento, quindi con 24 caselline dove in ognuna c'è un mini size di un prodotto del Livro Shea. In questo caso è valido solo fino al 6 novembre perché è edizione limitata ed è non rifaranno degli altri, quindi se vi interessa mi raccomando con gli ordini immediatamente. Iniziamo a sfogliare il resto del catalogo. Allora, eccoci alla farina del catalogo, vediamo subito l'anteprima. Iniziamo con la nuova linea nutrizione al karité. Di questa linea io già usavo lo shampoo e mi sono sempre trovata benissimo, ma vediamo che tutto quanto è sostenibile perché è vegetale per l'albero del karité. Spiega anche la simbologia e l'impegno del Livro Shea a associarla a comunità di donne locali al progetto, quindi davvero è anche solidale. Prima novità, eccola qua, è il balsamo doccia ultra nutriente, senza parabeni, oli minerali, coloranti e conservanti. Abbiamo anche le altre novità che sono latte nutriente intenso per pelli molto secche, oppure il latte nutriente intenso per pelli molto secche, quello però nel formato maxi con il flaccondosatore. Se no, per pelli molto secche danneggiate il balsamo nutriente intenso, oppure per pelli danneggiate da riparare, per zone da trattare, il balsamo questo qua SOS, che è 100% karité bio. Vediamo le promozioni per i trattamenti viso e abbiamo il set, questa ad esempio è della linea Rich Creme, il set comprende l'Elixir di bellezza e l'Antiugue benefica giorno a 32,95. Vediamo il promo delle altre linee, eccola qua, l'Elixir Jeunesse, il set che comprende il siero doppia azione e riparazione piante inquinamento più il trattamento di strutturante giorno a 34,95. Anti-Age Global a 42,95, il siero più la crema fondamentale giorno. Il set, eccola qua, il serum vegetale e rideclutter, 24,95, il siero ultra levigante più il trattamento levigante giorno. Oppure, eccola qua, antirughe compattezza, 26,95, sempre il siero ultra rimpolpante con il trattamento rimpolpante giorno. Riedelifting, siero modellante più il trattamento modellante giorno a 32,95. Ora, il rituale, set idra vegetale, 11,95, l'acqua micellare idratante 2,1 e la crema ricca idratazione intensa a 24 ore. Oppure, della linea, eccola qua, stebo vegetale, il set opacizzante con l'acqua micellare purificante 2,1 e il gel crema a zero difetti a 12,95. Oppure, il set pelle sensibile con l'acqua micellare lenitiva e la crema idratante lenitiva a 12,95. Vediamo ora il set per i capelli, sempre della linea riparazione, quella con il burro di karité, che è la linea che io amo di più. Il set comprende a 12,95 lo shampoo trattante e nutri riparatore, il balsamo nutri riparatore e la maschera nutri riparatrice. Vi mostro ora delle novità per quanto riguarda il make-up. Prima novità sono le matite per sopracciglia. Questa dice che ha la tenuta a 12 ore, è disponibile in tre colori, eccola qui, ha la micromina ritraibile, quindi quella automatica, con il pennellino, lo scovolino, quello per pettinarle, in tre colori, quindi cedro, castano e bruno. E questa, sinceramente, io sono davvero curiosissima di provarla. Abbiamo anche il mascara fissante per sopracciglia, eccola qua, sempre nei soliti tre colori. 12,95 a prezzo pieno, in promo a 9,95. Dice di disciplinare, come si dice, disciplinare e colorare naturalmente le sopracciglia, può essere anche applicato da solo, se vogliamo solamente definirle, oppure come fissativo per la matita. Altra novità, e anche questa è una grande novità, è il primer ultralight, è un primer viso illuminante all'estratto di riso illuminante. Allora, intanto, prolunga la tenuta del trucco senza appesantirla. Ha il 92% di ingredienti di origine naturale, non ha siliconi, alcol e parabeni, quindi un primer senza siliconi, questo è molto importante. Altra novità è il 2 illuminante, eccola, infatti si tratta di una polvere illuminante con due colori, a due tonalità per risultato modulabile, ed può andare bene anche in inverno perché ha un effetto leggermente abbronzante, però nel mentre è illuminante. Altra novità è il pennello kabuki retraibile, da portare sempre con te, dice. Perché? Perché il pennello kabuki, le settole tornano all'interno e poi al tappo, quindi è comodo anche da portare in borsa. Ad esempio, una volta finito il trucco, possiamo passare il pennello nella cipria o nella terra e poi chiuderlo, così si può estrarre al momento dell'uso per un ritocco, per opacizzare di nuovo la zona e mi trovo molto comodo. Promozioni, allora vi mostro l'altra pagina, promozioni, due saponi a scelta 5 euro, tranquillamente come sempre tutte le profumazioni, il primo sempre col codice nero e il secondo col codice rosso tra tutte le profumazioni disponibili, quelle e i saponi classici. Vi mostro ora, di quello di cui parlavo, il calendario dell'avvento. Eccolo qua. È un calendario che contiene 24 caselline da aprire ogni giorno e all'interno ci sono un sacco di prodotti. Sono elencati qui tantissimi prodotti davvero in Italia, 49,95 e i prezzi sono limitati, quindi, tanto che l'offerta è valida dal 26 ottobre al 6 novembre, davvero queste sono da prendere al volo. E stavo leggendo che invece i prodotti di maquillage, ecco il trucco, sono tutti in formato standard, quindi davvero i mini tagli sono per i prodotti viso, capelli, profumi, igiene e corpo, mentre i prodotti standard, quindi formato grande, formato classico, per i prodotti di trucco, quindi davvero wow. E questo era tutto l'album. Allora, eccoci, abbiamo sfogliato tutto l'album, avete visto tutte le novità, promozioni, offerte, è davvero un super album. Vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare nel formato PDF il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali. Nella i delle info c'è anche la scheda con il catalogo di Natale, così potete tranquillamente trovare anche quello. E basta, non vi resta che augurare di buoni acquisti naturalmente profumati con il Magico Altorale Mondo di Brochie. Ciao! 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 Ciao!